e bentornati dal vecchio bastardo il secondo video dedicato alle nuove schede invidia serie 3000 in mia compagnia come nel video precedente e lo ringrazio ancora angelo grazie grazie max e ciao a tutti bentornati sul canale per di nuovo e riparlare di informatica come sempre prima di continuare ed entrare davvero nel vivo del video vi ricordo la ricca del sottosuolo qui sotto in descrizione trovate i link per tutti i canali che ne fanno parte e quindi iscrivetevi e seguite anche gli altri e grazie a tutti quanti voi allora angelo in questo video andremo a trattare meno dell'aspetto diciamo tecnologico invito tutti quanti a recuperarlo per chi non l'avesse visto andremo a vedere dopo un discorso preliminare di liaison con il video precedente delle nuove funzioni che invidia che ha presentato durante scusate il gioco di parole la presentazione e le nuove schede per i 3000 andiamo a riprendere dove eravamo rimasti nel video scorso ovvero sia dalla schermata tratta proprio dal sito di invidia dove ci fa vedere i costi e le date di uscita delle tre schede che al momento hanno annunciato brevemente la 3070 disponibile a ottobre senza una data certa 519 euro la 3080 719 euro disponibile dal 17 di settembre la 3090 a 1549 euro disponibile dal 24 settembre angelo c'era a te la parola così ci fai un po di discorsi che tra di noi ovviamente ce li siamo un po preparati si dicevamo giustamente le come abbiamo visto anche nell'ultima parte finale del primo video i prezzi assolutamente concorrenziali di invidia attenzione però a non buttarvi ad esempio subito su una 3090 perché ci potrebbe essere il problema che il vostro hardware il vostro computer possano non supportare la nuova scheda video da questo punto di vista e quindi non solo dobbiate comprare la scheda video ma anche altre componenti ma secondo me anche la 3080 attenzione e anche la 3080 comincia già a essere un bel bambino e dovete stare attenti a questo soprattutto dovete stare attenti al periodo in cui ci troviamo non a breve però comunque tra poco potrebbe esserci una cosa chiamata back friday così come anche gli sconti natalizi e dato che vedendo le caratteristiche della nuova serie 3000 praticamente le nuove schede video che hanno detto detto proprio papale papale ammazzato la serie 2000 qualcuno in invidia potrebbe cercare di mettervi a un prezzo stracciato la serie 2000 cercate di non cascarci perché se il prezzo dovesse rimanere così basta guardarla 3070 con 519 euro ve la portate a casa tranquillamente e come abbiamo visto nell'altro video le prestazioni della 3070 sono ben superiori persino alla 2080 ti quindi anche se una 2080 ti a 2080 super possano costare 500 euro con altri 20 euro in più potete portarvi a casa la scheda video con prestazioni molto ma molto attenzione e occhio e attenzione come diceva prima angelo io per semplicità ve li faccio l'esempio del video precedente se pensate di acquistare e mettere sul vostro computer una 3080 ma partendo da un processore i3 e dal ram ddr3 secondo me sbagliate quindi attenzione come vi diceva giustamente angelo anche a questo aspetto allora intanto torno un attimo in studio per preparare l'argomento vero e proprio di questo video a meno che tu angelo non abbia qualcosa in più da aggiungere rispetto a quello che diceva direi direi di no della veramente state attento e soprattutto come diceva anche max anche prendendo la 3080 comincia già a essere pesante per magari gli hardware i processori che ci sono adesso in commercio a meno che come ho detto già prima non esca qualche processore migliore però veramente state attenti perché sono tanti soldi e quindi da quel punto di vista veramente andate ad occhio a colpo sicuro e informatevi ovunque possiate informare allora entriamo nel vivo del di questo video questo video se volete sarà un pochino più interessante per chi fa contenuti perché va anche magari per chi non è creatore di contenuti perché magari alcune funzioni sono veramente interessanti invidia annunciata appunto invidia broadcast con tre software con tre programmi che vanno a rendere qualunque vostra stanza come scritto qui in un vero e proprio studio di registrazione senza dover fare cose aggiuntive andiamo a vedere il primo adesso faccio un salto per che è un po brutto da vedersi ma che evito cose che non ci riguardano in questo video e partiamo direttamente dal primo angelo ci vuoi direte il primo qual è la prima caratteristica è rimuovere qualsiasi rumore che ci sia la stanza in cui stiamo registrando e vado anche un attimo ad alzare il audio mio in cuffia per farvi sentire meglio l'effetto e adesso lasciamo un attimo il video allora cosa abbiamo visto abbiamo visto praticamente che arriva una ragazza che accende il phon rumore del phon che si sente chiaramente all'interno dell'audio che magari state registrando o che state andando in onda in live attivando quel pulsante il rumore di fondo adesso sono un attimo indietro che è questo il rumore di fondo sembra totalmente scomparire poi lascio la parola ad angelo per dire la sua ci credo ma lo voglio vedere perché è davvero scomparire totalmente il rumore del phon e che la qualità audio di chi sta facendo lo streaming non ne risenta in alcun modo mi sembra un po eccessivo anche perché questi effetti angelo sono dati da algoritmi assolutamente sì da algoritmi da un punto di vista matematico ma anche da un hardware quindi per dire nel nostro caso un microfono perché per eliminare completamente in caso del video del ragazzo il rumore di sottofondo di un phon dobbiamo anche avere un hardware quindi un microfono ottimo da questo punto di vista quindi lì veramente dobbiamo aspettare dei test sul campo dei test operativi per vedere se in realtà fosse così chiaro che se fosse così come nel video saremmo anche qui davanti a una svolta perché non avremmo più bisogno di andare ad editare i nostri video per eliminare qualsiasi rumore di fondo che sia una tastiera che scrive che sia un rumore di un qualsiasi cosa una porta che sbatte eccetera lo fa in automatico e sarebbe perfetto si e potrebbe essere la vera rivoluzione per un personaggio di dubbia fama di nostra conoscenza un certo sha almeno simillante a sha e ogni abbastanza spesso mentre registra i video passa qualche ambulanza sotto casa sua e a volte si sente durante la registrazione quindi angelo puoi dirgli qualcosa per lo chat ma che da questo punto di vista noi potremmo potrebbe veramente testarlo per noi perché durante le sue registrazioni non sentissimo più le ambulanze allora potremmo veramente credere a ciò che ha fatto in video che qualsiasi rumore è veramente cancellabile solamente con un click del mouse passiamo al secondo software diciamo alla seconda funzione che Nvidia ci ha presentato questa va direttamente a fornire un supporto per i creatori di contenuti per un normale giocatore a differenza di quello precedente non è certo un qualcosa di importante ma andiamo a vederlo e poi torniamo a commentare dove sono anche gli aspetti l'accommodo cosa sono state facce con l'accommodo ci sono stricke gli aspetti come low to high and everything in between or if I want I can actually replace the background altogether now I'm in a space station with the magic of AI it's that easy or if I want to jump into some gameplay I can remove the background altogether and jump into some Valorant and now I'm playing with a green screen effect without actually having to have one at home I don't have to play good but at least I can look good well, we can stop it it's very interesting it's very interesting for the creators of content because we've seen in the first part that we can focus the image in the background but remain well in front we're in front clearly if you use a webcam or you can give us any background in front of any image in front of any image cancellarlo perché come avete visto dal video noi possiamo in qualsiasi momento del video e con qualsiasi immagine creare il nostro sfondo semplicemente scegliendo la foto da una cartella del nostro computer il che anche questo è rivoluzionario perché così come l'eliminazione del rumore del sottofondo il cambio di sfondo virtuale senza dover rieditare il video è qualcosa di innovativo che potrebbe aiutare moltissimo per chi soprattutto come dicevi tu max fa e utilizza programmi di video editing esatto peccato e tornando a parlare dello scia di prima che vada a cambiare soltanto lo sfondo e non chi è davanti alla telecamera questa è una pecca che magari invidia in futuro potrebbe ancora migliorare ma per i miracoli ancora ci dobbiamo attrezzare esatto esatto allora andiamo a vedere la terza invece funzione che è la presente angelo ce la vuoi un attimo introdurre questa diciamo che l'ultima grande caratteristica che ha presentato invidia è il fatto che noi possiamo in qualche modo sempre spostarci nella nostra stanza comunque dove possiamo riprendere e la telecamera ci inquadrerà sempre sarà come avere un cameraman personale che inquadrerà sempre noi senza sgranare diciamo l'immagine e quindi saremo sempre ad alta definizione e senza andare fuori fuori esattamente essere ripresi sempre al centro dell'immagine andiamo a vederla anche questa funzione quindi come abbiamo visto lo streamer si sposta ma rimane sempre a fuoco nell'immagine della sua webcam o altro dispositivo che utilizza per la stessa funzione funziona anche questa più adatta a chi fa contenuti ma magari nelle vostre partite insieme ad amici utilizzate anche voi la webcam e quindi potrebbe essere una funzione utile anche questa ultima cosa che andiamo a vedere è per me questa vi dico la verità è stata stata una botta in senso positivo non uso altre parole che potrebbero essere molto più forti ma anche questa funzione qui ve la faccio presentare da da Angelo scusatemi la nuova una nuova una nuova diciamo sì da questo punto di vista invenzione ecco possiamo chiamarla così di NVIDIA è come potete vedere questa slide Makinima NVIDIA Makinima Makinima che cos'è da questo punto di vista è un programma utilizzo per poter sperimentare in tempo reale nei giochi il 3d quindi poter essere immersi come scena da questo punto di vista all'interno di un videogioco come una persona in tridimensionale ed è come diceva Max un colpo al cuore un gran colpo perché veramente se fosse così con le schede video che ha presentato NVIDIA che è un ottimo schermo da questo punto di vista dell'hardware noi potremmo veramente impersonare qualsiasi personaggio e giocare come se fossimo all'interno del videogioco quindi qualcosa molto simile a una live action se non altro di più e non solo ma l'aggiungerò dopo per cui andiamo a vederci anche questa parte di video e quindi quindi la 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 questa immagine come potete vedere da questo punto, da questa slide noi possiamo importare un'immagine qualsiasi che possiamo avere all'interno del software Omniverse Machinima il nome è questo e possiamo in questo caso all'interno di questo software possiamo veramente editare in qualsiasi maniera le tre dimensioni per quanto riguarda appunto la posizione di un eventuale personaggio materiali, di tutto ciò che si può trovare all'interno del fondo in cui vogliamo posizionarlo e quello che abbiamo visto dal video prima è il risultato di ciò, quindi uno sviluppo in tre dimensioni di un'immagine che possiamo avere sul computer è chiaro che tutto ciò ovviamente sarà magari molto molto utile sempre per chi utilizzerà video editing per il proprio lavoro o anche per il svago quindi sarà una vera rivoluzione per come è stato presentato sì, e adesso andiamo a vedere la parte del video dedicata appunto a questo lavoro che ci hanno fatto vedere poi vi aggiungo un'altra cosetta mia comunque vi lascio alla parte di video un'altra cosetta mia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Possiamo commentare ciò che abbiamo visto per quanto riguarda l'hardware. Con tutto ciò che dovrebbe uscire a breve, quindi diciamo a partire dal 17 settembre con le prime schede video fino ad arrivare a ottobre con le ultime, dovrebbe esserci già una prima rivoluzione dell'hardware. Come abbiamo visto già nel primo video. In questo video abbiamo visto invece delle rivoluzioni dei software e anche qui possiamo, come dice il nostro sito di NVIDIA, andare a vedere quando anche i vari software potrebbero uscire appunto sul mercato. Ad esempio NVIDIA promette, poi anche lì bisognerà vedere, che il primo software che abbiamo visto, che è NVIDIA Broadcast, dovrebbe essere sul mercato all'incirca a partire anch'esso da settembre con la prima GPU RTX, quindi dovrebbe partire con la 3080. Mentre Machinima dovrebbe essere invece disponibile più o meno dagli inizi di ottobre la versione beta. Quindi cominciare a prendere mano con questo software che abbiamo visto che è qualcosa di bellissimo anche, perché comunque da un punto di vista anche dello svago e di divertimento può essere veramente qualcosa di carino. E qui, come dicevo, ci sarà per ora solo una versione beta ad ottobre, quando dovrebbe uscire la seconda scheda video della serie 3000. Sì, comunque sarà molto interessante, qui in alto vi evidenzio la pagina dove potete andare a trovare le informazioni relative a NVIDIA Omniverse Machinima, con tutta una spiegazione di quello che, spiegazione, una presentazione, ma è ancora diciamo, di quello che potrebbero essere le funzioni e le potenzialità di questo software, L'unica cosa che vi faccio notare, almeno che non si è cambiata giusto oggi, e nel qual caso farei una bella figura di sette appuntini, il primo a sperimentare è Omniverse Machinima, avvisami quando ci sarà qualcosa, la pagina non esiste. Ancora, la pagina non esiste, quindi su questo NVIDIA poteva aspettare quantomeno, ammettere quantomeno questo avviso, ecco, questa avvisami che poi rimanda a un qualcosa che non c'è ancora. Comunque, per chi avesse la pazienza, il tempo di starci dietro, di andare a editare, di andare a creare, senza magari arrivare al massimo delle potenzialità, di avere anche una telecamera speciale, dico bene Lorenzo per creare quell'effetto di creare il personaggio in 3D da mettere all'interno, Lorenzo, scusami Angelo. Assolutamente sì, perché da questo punto di vista noi avremo bisogno, anche questo software è già un software che utilizza delle caratteristiche ottime, avremo bisogno, però comunque, sia per quanto riguarda una camera, una camera molto speciale, quindi comunque già una signora, voi che non parliamo, così come anche per quanto riguarda il resto, l'emminazione del rumore, anche dei microfoni, comunque, con ottime prestazioni, chiaro. Comunque, andiamo a parlare di video editing di un certo livello, più il classico, magari il Photoshop, come potevamo utilizzare un tempo, adesso cominciamo a migliorare la situazione, ecco, e quindi anche l'hardware deve essere all'altezza del software che utilizziamo. E di sicuro corre un po' di pazienza, un po' di tempo, non credo che comunque sia una cosa che si fa in dieci minuti, come stiamo vedendo dalla parte di video che vi sto in parte nuovamente rimandando, ma in parte avete visto delle cosette che prima non ci sono. Tipo qui adesso appunto l'animazione facciale, mentre diamo voce al personaggio, anche questa da vedere, che vi dovete vedere se sarà questa cosa supportata soltanto per il linguaggio inglese, oppure per tutti quanti, perché chiaramente i movimenti labiali cambiano da lingua a lingua. Qui vediamo che a un punto c'è un coming soon, quindi anche in questo caso, come ricordava anche in parte prima Angelo, non c'è una data stabilita al rilascio. Bene, andiamo verso le conclusioni. Angelo, vuoi aggiungere qualcosa? Ragazzi, andando a fare un recapito di tutto quello che abbiamo visto, siamo di fronte a qualcosa di un'innovazione. Un'innovazione da un punto di vista hardware, da un punto di vista software, per quanto riguarda sia il PC gaming, quindi i giochi per computer, che anche l'universo 3D. quindi da questo punto di vista io vi posso consigliare di guardare tutto ciò che riguarda la NVIDIA, a punto di vista hardware e software, e gli aggiornamenti, perché secondo me ne vedremo veramente delle belle da qui in avanti. Io vi aggiungo, interessante anche notare come NVIDIA, con questi software, vada ad avvicinarsi al mondo anche dei creator, a essere un punto di riferimento, un supporto per i creator, anche questo è un passo che in parte c'era, ma qui andiamo veramente ben oltre a quello che avevamo fino a questo punto. Vi faremo a vedere, nel caso faremo ulteriori video, se avete domande e quant'altro, noi e magari anche Angelo, che ringrazio ancora, vi risponderemo se chiaramente scrivete nei commenti. Passo a farvi salutare Angelo. Grazie mille, grazie Max, grazie a tutti, e ci vediamo al prossimo video. Da parte del vecchio bastardo, come sempre, è stato un vero piacere, e al prossimo video. Ciao a tutti.